la Roma di Murigno io parlo con te, ti dico che la carbonara è buona e tu mi rispondi sì, io ieri sera sono stato a vedere ma non è così ma stiamo a parlare di caccio se no parla solo di Biagio che discorso è? ma scusami, se io ti faccio una spiegazione tecnica tu rispondi con tutt'altro di che cazzo di cazzo stiamo parlando ma non è vero, ma quale è tutt'altro tu hai detto una cosa del Bologna la Roma c'era qualcosa di meno in aggressione io ho detto, ma Roma scusami, Marco mi fa una domanda mi spiega, perché secondo te la Roma può andare in difficoltà? e io ti spiego il motivo e tu mi rispondi con i balli e l'Ukaku hanno qualcosa più di giocatore di Bologna non c'entra un cazzo i Bologna hanno messo in difficoltà l'Inter perché è la squadra che fa l'area aggressore in avanti migliore in Italia e non lascia paleggiare a Roma quella cosa la Roma non lo fa ma quindi la Roma non può avere altre armi? certo che può avere altre armi io ti ho dato una mia spiegazione tecnica non vuol dire che è la verità e non vuol dire che andrà così e tu hai fatto e tu hai fatto una domanda che non ti spiego il cazzo Enrico e tu hai fatto una domanda che non ti spiego il cazzo